Un ciclista è stato investito questa mattina in via Marco Perennio. Erano circa le 9 quando un automobilista non ha rispettato uno stop, travolgendolo e facendolo rovinare a terra sull'asfalto bagnato. Il conducente sarebbe stato abbagliato dal sole, basso sopra i tetti delle case, che gli avrebbe impedito rivedere il ciclista che sopraggiungeva. Un problema quello del sole, riscontrato più volte lungo via Marco Perennio e via Fiorentina. Le due strade, conseguenziali, sono infatti risposte lungo la direttrice Est-Ovest. In alcuni orari questo crea grossi problemi a più di un automobilista, abbagliato dal sole appena sorto o al tramonto. Il ciclista, ferito nella caduta, è stato soccorso sul posto dal personale del 118 e trasportato al San Donato per accertamenti, mentre la polizia municipale effettuava i rilievi di legge.